Stabilizzazione dei precari del centro per l'impiego di Sernia, una strada ci sarebbe ed è quella del rispetto della vecchia normativa a cui Gianni Fantozzi, capogruppo di minoranza, ha fatto riferimento. Richiamerò invece l'attenzione del presidente attuale dell'amministrazione provinciale su una delibera provvista da tutti i pareri sia giuridici che legali che contabili, una delibera del 2011 con la quale l'allora presidente aveva previsto il passaggio sempre per i dipendenti del centro dell'impiego sono circa 15 dipendenti, da co-co-co a passaggio a tempo determinato. Questa delibera è stata messa nel dimenticatorio, non è stata mai data attuazione noi richiamiamo l'attenzione del presidente su questo fatto che riteniamo sia un fatto importantissimo per dare la possibilità a questi lavoratori di poter ambire, perché no, a diventare dipendenti a tempo indeterminato perché passaggio con la legge Madia c'è la possibilità di fare questo tipo di discorso. Lo potrebbe fare perché è una delibera, non sappiamo perché, potrebbe reiterare questo tipo di delibera e potrebbe fare il passaggio sicuramente, visto che però ecco dovrebbe riappropriarsi dei pareri sia di legittimità, di merito e di contabili per poter poi addivenire a sto fatto. Però noi chiediamo perché non è stata fatta, questa è una domanda a cui dovremmo aspettare una risposta. La richiesta di Gianni Fantozzi è stata presentata in aula, ma il presidente della provincia, Lorenzo Coia, dice che non è una strada facilmente percorribile. Sì, ma le procedure per la stabilizzazione, cioè purtroppo ogni epoca ha le sue regole. Le procedure per la stabilizzazione all'epoca erano possibili. Cioè quello che ci si dimentica è che gli ultimi tre anni sono stati terribili per le province, se ormai si arrivava quasi alla cancellazione, dovete pensare che con una norma statale ci hanno ridotto il personale del 50%, con una stessa norma statale ci hanno impedito di fare assunzioni. Le ultime prese di posizione dalla Corte dei Conti ci invitano addirittura a non assumere neanche il personale delle categorie protette, quindi i disabili o gli invalidi o quelli che sono iscritti nelle liste particolari. Tranne quelli che avevano in essere delle procedure di stabilizzazione già iniziate, io so che questo ente all'epoca fece alcune stabilizzazioni, fece una scelta, decise di assumere alcune tipologie di personale e non tutte. Probabilmente non tutte erano possibili da poter assumere. Oggi tutte le province d'Italia hanno ancora dei residui di procedure di stabilizzazione che mano a mano che ci sono state le disponibilità economiche e le carenze in pianta organica hanno soddisfatto. Ma per quanto riguarda la provincia di Sernia, da quello che mi risulta, le procedure di stabilizzazione sono state fatte soltanto per qualcuno.